A che ore c'è diria, o c'è telefonia, io credo di no. Non so che cosa dici, non so come spiegarti, non so proprio niente. Non credo più di amarti, ma come ne posso dire in mezzo a questa gente? Che ti ho messo i lampioni sui tre colorati, che ti ho messo di me. Che ancora non ti ha busco, ma cosa sarà nulla, sognarmi senza niente. Però ti prego adesso, nessuna decisione, per chi ne morirebbe. Ti posso dare un bacio, sai che lo vorrei, ti aspetterò domani se ci sei. E non so cosa è stato, ti ho amato così tanto e tanto ancora. Niente, potessi almeno piangere, come posso farlo in mezzo a questa gente? Vedo lontanarsi, sparire nella pioggia col suo belletto. E tu la guardi ancora da dietro il finestrino un po', non si vede più di me. VGrillo Ho avrei voluto dire, che ho portato a portare, I amato da mattina, Il tuo valore in una storia grande! Come il lamento il muro. Per non guado andare via... mai più! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.